Sono circa un centinaio i profughi ucraini ospitati in un hotel ai prati di Tivo. Di questi 45 ci sono anche diversi bambini dai due anni in su. Sono arrivati qualche giorno fa dopo essere stati portati via grazie ai corridoi umanitari dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Nei loro occhi c'è ancora la paura della guerra che anche se ora lontana non riescono minimamente a cancellare. Per questo chiedono aiuto, hanno bisogno di psicologi ma anche di medici per essere seguiti in questa delicata fase. Queste 45 persone prevengono tutti una per una di Mariupol, che è l'ultima uscita il 28 maggio. Loro tre mesi state isolate da tutto il mondo sotto bombe, isolate da tutto il mondo intero e adesso loro portate qua ancora isolate. Isolate non c'è nessun collegamento con il mondo esterno. Isolate persone che hanno bisogno di assistenza salute, assistenza psicologica perché persone che sono uscite da Azovstal, persone che sono uscite da Mariupol. Persone anziane che anche questa isolazione che è lontana da cure medici è ancora più difficile, persone da 82 anni e adesso sta qua. Bambini con febbre purtroppo non hanno assistenza medica. Unico che sta a fianco che aiuta questo personale di albergo. Il personale veramente comporta in modo eccellente, sta a fianco tutto e per tutti. Assistenza che nonostante il grande lavoro fatto dal personale dell'hotel in cui sono ospitati non basta. Chiediamo chiedere più vicino a costa, soprattutto di Peneto, ma perché hai scelto Peneto? Perché tante ragazzi, tante signore, una di che è madre di eroi di Azov, sta a cura con il psicologo Sinigiana che sta alloggiando pure il profogo a Peneto. Però purtroppo lei non può andare avanti online perché è controproducente. Loro tutti sono trovati psicologicamente e stanno male psicologicamente. Soprattutto 7-8 persone, compreso qualche bambini. Bambini che hanno paura anche di uscire. Ci sono bambini che hanno paura di uscire da camera. Per quel motivo noi chiediamo bisogno. Ma poi loro scelte Italia, non è per caso, loro scelte Italia per mare. Perché l'unica cosa che è rimasta di Mariupol, Mariupol ha distrutto mare. E per loro amare una presenza, un piccolo coro di nostra città. Storie forti, difficili, solo da ascoltare. Perché vedere negli occhi di queste persone il dolore che ha portato la guerra è un qualcosa che lascia il segno a chiunque. C'è Natalia che ha perso il suo figlio a 35 anni. Lui di Azov. Storia di lei molto straziante. Perché quando loro sono usciti da Azovstal, dentro Azovstal loro sono state sotto le bombe. Quando è cascata una volta bomba, fra 30 persone 17 sono state morte. Loro sono state mezzo morte quasi due giornate intere perché non potevano uscire. Dopo quando loro sono usciti da Azovstal, lei, il suo onore, il nipote, loro sono riusciti a scappare. Riusciti a uscire. Il figlio invece di 35 anni, lei non è visto più. Perché Azovstal è una cosa tremenda. E queste persone di Azovstal, come c'è anche Anna, malata oncologica, che sta qua, che non ha forze a venire. Perché purtroppo passate tanto tempo sotto terra e non ce la fa. Non ce la fa per lei. Adesso senti abbandonata di salute, abbandonata di tutto. Lei purtroppo sta perdendo tutte fede. Però non possiamo permettere questo. Perché noi italiani, il cuore è grande, fino adesso non è aiutato. Dobbiamo aiutare anche adesso.